Ciao runners e ciao amanti della corsa io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 terzo aggiornamento della storia di questo podcast del mio parco scarpe ormai ho preso l'abitudine di farne praticamente uno ogni anno dato che infatti vi avevo parlato delle mie scarpe già a febbraio 2021 e 2022 e allora non facciamoci mancare l'update anche in questo febbraio del 2023 anche perché come era prevedibile il numero di scarpe a mia disposizione è aumentato proporzionalmente con il crescere dei miei volumi settimanali ci sono un paio di cose che avevo detto anche nelle puntate precedenti e che mi tocca ribadire anche quest'oggi il primo è che se ne avessi l'opportunità mi riempirei letteralmente di scarpe già di mio proprio sono un amante di scarpe non per forza da corsa anche in generale ma a maggior ragione lo sono per quelle da running e da trail running per me che sono un nerd di queste cose è veramente un oggetto importante in modo da avere la scarpa giusta al momento giusto per l'allenamento giusto e poi secondo me anche un po' un nostro segno distintivo che ci fa riconoscere tra noi runner seconda cosa come accade sempre in questi casi non piglio una lira per i marchi di modelli che nomino sì un paio di scarpe mi sono state omaggiate nel tempo e ne ho fatto pure la recensione in passato ma questa mia puntata è assolutamente spontanea si sa mai che poi qualcuno mi accusi di essere un marchettaro un venduto o simili sono andato anche velocemente a rivedere cosa vi avevo detto nella puntata dello scorso anno perché credevo di avere ancora qualche modello sopravvissuto invece no mi sbagliavo a quanto pare per la gioia della mia ragazza e anche del mio portafogli ho cambiato tutto l'arsenale nel giro di questi 12 mesi ma via basta basta temporeggiare quali sono le scarpe che ho a disposizione ad oggi febbraio 2023 e che caratteristiche hanno iniziamo dalla strada iniziamo con le altre paradigme 6 che sono il mio modello più ammortizzato come ordine ho deciso di partire dalle cose più ciccione per arrivare man mano a quelle più leggere e reattive perciò comincio dalle altre paradigme 6 di cui vi ho anche parlato in una recensione specifica per cui non mi dilungherò troppo peraltro vedrete che anche di altre scarpe che menzionerò ho fatto la review per tutte queste non ci perderò troppo tempo ma vi lascio in descrizione tutti i link per eventualmente andare a recuperare ed ascoltare gli episodi dove li trovate tutti i dettagli dicevamo però delle paradigme sono veramente super super morbidose super comode molto soffici e protettive di contro non sono affatto leggerissime 307 grammi nella taglia 42 ma ovviamente non si può avere una pantofolona così ai piedi senza che ci sia anche del materiale sono state il mio primissimo modello a zero drop hanno 30 mm sia al tallone che all'avampiede e mi sono state gentilmente omaggiati dal collega podcaster claudio bagnasco di running sofia cadendo proprio a fagiolo neanche a farla apposta perché io stesso di lì a poco le avrei comunque comprate di tasca mia nel complesso mi ci sto trovando bene chiaramente usando le per ciò che sono per quello che servono scarpe per fare chilometri lenti e infatti le uso solo praticamente per le mie uscite di corsa facile specialmente quelle rigeneranti all'inizio per via del drop zero non mi azzardava ad utilizzarle per chissà quali chilometraggi per non andare ad affaticare muscoli e tendini ma ora mi ci sono abituato ed è un vero piacere usarle se si tratta specialmente di allenamenti dove andare piano e stare comodi la seconda sono le oca rincon 3 che sono un po l'all around il jolly quando sono andato a sostituire le oca clifton 8 ho deciso di provare con qualcosa di leggermente meno protettivo avendo già a disposizione le paradigme e ho testato queste rincon anche perché l'avevo trovate veramente in super offerta pagandole letteralmente una bellinata dalla polonia pensavo mi arrivasse un sasso invece tutto bene uso queste scarpe un po per tutto e infatti ci ho fatto anche già un bel po di chilometri lunghetti su strada qualche lavoro scatti in salita non sono una scarpa super iper protettiva ma comunque c'è un bel po di inter suale in mezzo e le promuovo sicuramente per tutte queste attività che stanno un po nel mezzo se dovessi prendere una scarpa per fare un po di tutto questa sarebbe probabilmente una scelta adatta tant'è che il modello che mi porto in giro che ne so se sono fuori per vacanza o per lavoro con il quale faccio veramente un po tutte le attività su strada unico problemino come tante oca la suola sta già iniziando a disintegrarsi dopo non troppissimi chilometri vero che l'ho già usata molto proprio per via della sua versatilità però speravo campassero di più invece tra poco dovrò già sostituirle per gli amanti dei numeri 29 mm al tallone 24 davanti per un drop quindi di 5 mm nel modello da uomo mentre sono 26 e 21 mm nel modello da donna terza scarpa sono le so con i kinvara 13 questo è il modello più reattivo e veloce che ho nella puntata dello scorso anno delle scarpe vi avevo parlato delle kinvara 11 nel frattempo le ho dovute cestinare e mi sono buttato sul nipote la versione 13 questa è decisamente la scarpa che ho in casa più leggera più reattiva che risponde alla grande un po di school per certi versi senza piastre cose particolari ma fa assolutamente il suo dovere sono 213 grammi senza troppi fronzoli ed un differenziale di 4 mm tra tacco e punta 28 mm e mezzo al tallone 24 e mezzo all'avampiede di recente ci ho corso anche la mezza maratona delle due perle e sono andate alla grande per questa distanza ovviamente per il mio passo non penso che le azzarderei su distanze oltre i 25 chilometri ma per uscite corte o comunque medio corte e soprattutto veloci sono veramente ottime in particolar modo l'intersuola power run di soconi mi dà delle ottime ottime sensazioni delle ottime risposte specie quando alzo il ritmo ormai anche loro non sono più esattamente nuovissime ma visto che per la recente mezza ancora si sono ben indifeso e conto di prolungarle la vita almeno per qualche ulteriore mesetto abbiamo già finito per quanto concerne la strada veniamo al trail running ecco a che fondamentalmente rispetto allo scorso anno ho aumentato il numero di paia a mia disposizione mentre sulla strada ho sempre o quasi sempre avuto una rotazione a tre massimo quattro modelli sul sentiero di solito me ne bastavano invece da qualche mese a questa parte ho tre paia da amministrare per le mie uscite su sentiero iniziamo dalle oca speed goat 5 che sono un po il classicone tra virgolette di tutte e tre queste scarpe oltretutto ci ho fatto la recensione quindi andremo in generale abbastanza rapidi lo dicevo proprio nella review ero veramente super innamorato delle oca speed goat 4 e lì ci ho corso ovunque per una quantità di migliore indicibile però alla fine dai e dai c'è poco da fare le ho distrutte e pur provando anche le mafate in negozio poi ho deciso di restare diciamo così con le speed goat però passando alla nuova versione come raccontato nella recensione appunto preferivo le 4 ma comunque questo resta un buon modello a mio avviso rispetto alle 4 hanno sì perso di comodità qualcosina ma hanno una discreta reattività e anche protezione infatti nel modello da uomo taglia 42 pesano 291 grammi che non è pochissimo ma nemmeno troppo con le speed goat 5 ci ho corso il valtellina wine trail dello scorso novembre e sicuramente quasi certamente resteranno la mia scarpa per i trail medio lunghi di quest'annata giusto due specifiche al volo sul drop prima di proseguire 33 mm di altezza al tallone 29 in punta nella versione da uomo 31 e 27 nella versione femminile quindi in entrambi i casi un drop di 4 mm la mia seconda scarpa da trail sono le altre alone pic 7 è proprio la scarpa a drop 0 la mia seconda in ordine cronologico scarpa drop 0 dell'armadio stavolta da trail ed è anche l'ultima arrivata in casa pure lei offerta da altra sempre della mitica persona di claudio di running sofia ha delle caratteristiche che la rendono per certi versi anche simile alla speed goat appena nominata diciamo che si collocano un po nello stesso segmento di mercato di scarpe da trail mediamente protettive infatti pesano 314 grammi che è un po di più delle speed goat tuttavia l'altezza dal suolo non è eccessiva 25 mm di altezza al tallone e ovviamente altrettanti in punta perché il differenziale è zero la differenza principale con le speed goat per me è che forse con queste lone pic su allenamenti troppo lunghi io soffro ancora la mia scarsa abitudine alla suola con 0 mm di differenziale affaticandomi sostanzialmente sto pian piano prendendo il via ma è una transizione per nulla velocissima che sto mettendo una vita anche per via del fatto che poi per preparare la mezza ho temporaneamente sospeso i miei allenamenti in giro per sentieri e solo adesso sto ripartendo ad ogni modo penso che nell'alternanza delle mie scarpe da trail pure loro possano inserirsi con piacere in determinate situazioni visto che sono un modello comodo e piuttosto reattivo con una suola dall'attacchettatura aggressiva adatta ad alcune specifiche situazioni e infine le oca zinal che è il modello più leggero di tutte ultima scarpa della carrellata di pure queste ne ho parlato in passati in un episodio ad hoc come dicevo è la più leggera del mio lotto da trail 242 grammi ed è anche piuttosto minimal pure dal punto di vista dell'altezza dal suolo 23 mm al tallone 18 in punta per un drop di 5 mm si pensa spesso che le oca siano super ciccione massimalista invece questa va nella direzione opposta la uso per le mie sedute più corte magari dove c'è anche da spingere facessi gare di trail più brevi sarebbero ottime anche per questo scopo non saranno forse la scarpa più comoda del mondo ma hanno una ottima reattività a parte quelle col carbonio ma comunque una buona reattività e consentono di sentire bene di percepire bene il terreno sotto i propri piedi che è una cosa sempre utile e anche allenante per certi versi finita la carrellata giusto due considerazioni intanto come le gestiscono queste rotazioni delle scarpe in verità per la strada soprattutto l'ho anche già mezzo detto ed il concetto è molto semplice le paradigme per le uscite più lente e facili le rincon un po per tutto ma in generale per lunghi lenti su asfalto tempo run cose del genere fartlek ad esempio chi invara per gli allenamenti di qualità e per le gare fino alla mezza maratona per il trail che comunque pratico una o massimo due volte a settimana abitando in città la situazione è leggermente diversa perché non mi capita quasi mai di fare allenamenti di qualità su sentiero se ogni tanto si qualche climb block qualche salita c'è ma non tantissimi ed allora non facendo allenamenti infrasettimanali su sentiero comunque sendo molto rari me le giostro con più lentezza con poche uscite settimanali per i trail più corti vado di zinal come appena detto scarpa che ci starebbe benissimo anche per le garette attorno ai 20 chilometri forse anche qualcosa in più per le long run più importanti alterno le speed goat e le long peak che hanno comunque caratteristiche abbastanza simili se si tratta di un allenamento molto molto lungo ad oggi ad ora prediligo le speed goat ma conto di allungare nel tempo anche le ore sulle gambe con le long peak 7 ai piedi la scelta tra queste due varia anche il base ai terreni e alle condizioni meteorologiche se devo correre su roba meno tecnica più semplice meglio le long peak con qualcosa di più complesso e o in condizioni di pioggia e umido la mia scelta ricade sulle speed goat speed goat che finora ma una volta sola comunque ho sempre usato anche per le mie gare più lunghette ed infine come mi comporterò in futuro in fatto di scarpe l'ho fatto questo discorso anche gli scorsi anni e quindi anche stavolta concludo la puntata su un paio con un paio di pensieri sul come proseguire nel 2022 avevo annunciato preannunciato in quella puntata che volevo provare il zero drop effettivamente ce l'ho fatta è stata così sulla strada ormai lo dicevo anche prima le uso senza alcun problema vedete su trail come anche raccontato in varie occasioni soprattutto nella review stessa delle long peak 7 devo ancora prenderci la mano ed è sicuramente uno dei miei obiettivi principi di quest'annata da questo punto di vista per il resto penso che andrò a sostituire a breve le rincon che tra tutte le mie scarpe sono quelle messe decisamente peggio dovrò decidere se tornare su un modello versatile quindi simile a queste o spostarmi su qualcosa di leggermente più protettivo mi vengono in mente di nuovo le clifton per esempio vorrei comunque qualcosa che fosse in grado sì di proteggermi ma anche di rispondere decentemente se ci fosse da fare un fartlek o in generale un cambio di ritmo decoroso e abbiamo finito vi ricordo sempre che nelle notte dell'episodio trovate i link alle puntate delle singole recensioni quando le ho fatte per queste scarpe e poi tutti i vari luoghi dove raggiungermi seguirmi contattarmi sta tutto lì dentro sempre nelle note per aiutarmi nel promuovere la cultura del running per noi amatori trovate il link per accedere a patreon si può partire anche da un eurino al mese per sostenermi eppure lui singolino un caffettino già da solo mi aiuta moltissimo per oggi è veramente tutto cari runners ma veramente quanto sono fighe le scarpe da corsa ci sentiamo alla prossima puntata